Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri. Un viaggio alla scoperta di un nuovo concetto di benessere, dove corpo e mente trovano l'armonia. L'acqua della giovinezza, che sgorga calda dalle falde, limpida, pura e alcalina. Le proprietà rigeneranti dell'acqua, oltre il termalismo classico, con protocolli di esercizi motori, fisioterapia e osteopatia. Parco Termale del Garda, da sempre un'oasi di benessere. A Colà di Lazise.